Corte dei Conti denuncia sprechi ed inefficienze la relazione del presidente Michele Sciascia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario tra gli sprechi le spese dei gruppi consigliari regionali e comunali e la gestione delle società partecipate. Napoli, febbre azzurra per la Champions, festa a Capodichino per la partenza della squadra per Madrid. Per chi resta in città, maxi schermi e menu speciali. Anche 8 channel in campo con un'edizione speciale di febbre da stadio. Disastro ambientale, imprenditori nei guai. Avvelenavano acqua e terreni stamani il blitz della finanza nel napoletano. Sequestro di beni per 200 milioni nei confronti di un gruppo imprenditoriale impegnato nel settore dello smaltimento dei rifiuti. di 8 channel. Intanto Foti chiarisce le mie scuse ai dirigenti ma non al sindaco di Verona. San Valentino, la polizia al fianco delle donne. A Salerno la questura ha scelto di dare sostegno a tutte le donne vittime di violenza con la campagna informativa. Questo non è amore. Anche in quest'ora è Pasquale Enrico in campo. Buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione di 8 channel news. Quelli che abbiamo appena seguito erano i nostri titoli. Come avete sentito in apertura la Corte dei Conti che parla degli sprechi in Campania. Si tratta di una cifra che si aggira intorno ai 54 milioni di euro intorno al 2016. La relazione del presidente Michael Shasha per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Un quadro sconsolante così definisce nella sua relazione di inizio anno giudiziario la gestione dei conti pubblici da parte delle amministrazioni locali. Il presidente della Corte dei Conti della campagna Michael Shasha. Un anno caratterizzato da 5.313 tra esposti e denunce alla procura regionale della Corte dei Conti che tra sentenze e sequestri è riuscita a recuperare 54 milioni di euro. 3.753 sono invece le archiviazioni. La sanità e la gestione delle aziende partecipate, i settori dove sono presenti le maggiori criticità. Anche il compito del portacarte deve avere il senso di responsabilità, quella coscienza individuale. È solo questo il limite che può fermare di fronte a tutte le sirene di approfittamenti, di appropriazioni. Non c'è nessuna Corte dei Conti che potrà frenare un'immoralità dilagante. Ecco perché l'aspetto più importante secondo me è l'affermazione del senso di legalità. Se questa rete fosse di protettiva, fosse stata elaborata prima, avremmo potuto evitare una serie di dissesti finanziari o comunque una serie di cattive gestioni che oggi abbiamo rilevato. Però certamente è uno di quei segnali che devono anche concorrere ad educare meglio. La magistratura contabile ha presentato un'istanza di sequestro conservativo su TFR, pensione di invalidità e conto bancario per un dipendente di una società pubblica regionale che avrebbe usato la carta di credito per fare scommesse e gonfiarsi lo stipendio. Adesso vi raccontiamo l'abbraccio del popolo azzurro al calcio Napoli prima della partenza per Madrid. A Capodichino, invasa da centinaia di tifosi, intanto la squadra dice andiamocela a giocare senza paura. Un aeroporto colorato d'azzurro, un muro di tifosi ha salutato l'arrivo del pullman del Napoli a Capodichino in centinaia per accogliere tra applausi e cori da stadio la squadra davanti all'ingresso militare dell'aeroporto di Napoli. Solo alla Playstation abbiamo visto partite del genere. In Napoli ha giocatori con le palle, andassero là a giocare a mangiarsi l'erba da terra. Applausi anche per il patron Aurelio De Laurenti, arrivato a Capodichino a bordo di un'auto grigia. Tanti VIP ospiti del presidente, il regista Paolo Sorrentino, l'attore Silvio Orlando e l'ex sindaco di Roma Walter Veltroni. L'attesa in città è spasmodica di quelle che quasi non si reggono. In 10.000 seguiranno la squadra a Madrid, gli altri incollati davanti ai televisori perché il Real Napoli è la partita e nessuno vuole perdersela. Il popolo napoletano si sa è ottimista per natura, figuriamoci ora che la squadra sta girando a mille e arriva nel tempio del calcio al Santiago Bernabeu al top della forma. Andiamo là e ce la giochiamo, a viso aperto. Eventualmente usciamo, usciamo alla grande, però sono molto fiducioso. Si affrontano alla pari, anzi è più forte il Napoli. 1-1 e poi al ritorno li facciamo soffrire. Mi va bene anche un pareggio. Spedo in un 1-1 ci va bene. Tra riti scaramantici e locali pubblici che si stanno organizzando con maxi schermi, Real Napoli è già cominciata. Sempre le stesse persone, sempre casa mia. Mangierò dopo la partita. E se mi rito scaramantico. Cambiamo argomento. Spunta anche il nome del deputato salernitano del Movimento 5 Stelle, Angelo Tofalo, nell'indagine della DDA di Napoli sul traffico internazionale d'armi che ha portato all'arresto dei coniugi di San Giorgio a Cremano. Non sapevo si fossero convertiti all'Islam, ha detto l'esponente Grillino. Ci racconta tutto. Giovanni Battista Lanzilli. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli che vede coinvolti Anna Maria Fontana e Mario Di Leva, i coniugi di San Giorgio a Cremano arrestati con l'accusa di traffico internazionale d'armi. Nell'indagine spunta infatti il nome di Angelo Tofalo, deputato salernitano del Movimento 5 Stelle. L'esponente pentastellato si è presentato nei giorni scorsi in procura a Napoli per rendere delle dichiarazioni spontanee, dal momento che Fontana avrebbe fatto la intermediaria per un incontro tra il deputato, componente del Copasir, e l'ex premier islamista del governo libico Khalifa Guell. A riferire alla circostanza è stata la stessa indagata in uno degli interrogatori resi ai PM Catello Maresca e Maurizio Giordano che coordinano le indagini. Tofalo non è indagato ma ha voluto raccontare la propria versione dei fatti ammagistrati. Guell, ritenuto vicino ai fratelli musulmani, si è reso protagonista di un tentato golpe a Tripoli, mentre il deputato 5 Stelle ha parlato anche dei suoi spostamenti da componente del Copasir, fra cui un viaggio ad Istanbul durante il quale ha intervistato proprio l'ex premier islamista. E proprio sui contatti tra Tofalo, Guell e Fontana indaga la DDA partenopea. Il deputato 5 Stelle a fanpage ha detto di aver conosciuto la donna arrestata per traffico d'armi l'estate scorsa, ma anche di non essere a conoscenza della conversione all'islam radicale di lei e del marito, negando inoltre di sapere che i conigli di San Giorgio a Cremano fossero coinvolti in un traffico internazionale d'armi. La Guardia di Finanza ha sequestrato 200 milioni di beni ai fratelli Pellini, imprenditori nel settore dei rifiuti. Secondo le indagini, gli imprenditori napoletani sversavano rifiuti pericolosi nei Regi Lagni e nelle campagne del Casertano e del Napoletano. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un sequestro patrimoniale per un valore di circa 200 milioni di euro nei confronti dei fratelli Pellini, imprenditori nel settore dello smaltimento dei rifiuti. La finanza ha sequestrato 250 fabbricati, 68 terreni, 50 auto, 3 aeromobili, 49 rapporti bancari. Secondo le indagini e le accuse per le quali i fratelli Pellini sono stati già condannati per disastro ambientale, gli imprenditori smaltivano illecitamente i rifiuti liquidi sversandoli direttamente nel bacino dei Regi Lagni. I rifiuti speciali solidi, anche pericolosi, venivano poi tombati su terreni a destinazione agricola o in cave adibite legalmente a vere e proprie discariche. Il processo ha messo alla luce un sistema criminale che per anni aveva movimentato e smaltito tonnellati di rifiuti pericolosi, spesso provenienti dalle industrie del nord Italia, direttamente nelle campagne e nei lagni dell'agro casertano e napoletano, costituendo ad alimentare l'economia dei clan. In questo contesto il gruppo di investigazione criminalità organizzata di Napoli ha ritenuto di sequestrare il patrimonio dei Pellini perché era da qualificarsi illegale, poiché la gestione abusiva dei rifiuti risultava realizzata fin dall'origine con modalità illecite. Inoltre la Guardia di Finanza ha appurato una sproporzione fra il patrimonio dei Pellini e le disponibilità ufficiali risultate dai redditi dichiarati. Per questi motivi questa mattina è scattato l'ingente sequestro. Ancora attenzioni nel sannio sul tema dell'accoglienza dei migranti. Dopo il caso di Vitulano si apre un nuovo fronte a Ceppaloni. Parla il sindaco Cautaudo ai microfoni di Otto Channel. E' sempre più caos migranti nel sannio. Dopo il caso di Vitulano un altro sindaco Claudio Cautaudo dice Paloni dice no all'arrivo di nuovi rifugiati. Cautaudo ha spiegato ad Otto Channel il motivo. Alla base del suo appello alla prefettura non c'è razzismo o una posizione antimigranti ma una richiesta di rispettare le leggi e di evitare l'insorgere di conflitti sociali. Alcuno strassismo, alcuna posizione preconcetto o precostituita. Tant'è che da circa un anno ci sono circa 50 migranti nella nostra comunità. Noi non siamo contro il fenomeno della immigrazione, siamo per una integrazione però deve essere un'integrazione guidata, corretta, nel rispetto delle leggi, delle regole, delle nostre tradizioni. E' impensabile sovraccaricare alcuni comuni laddove già ci sono delle comunità e nella provincia di Bernardo ci sono tanti altri comuni laddove non c'è neanche un centro di accoglienza. Perché noi sindaci, quindi più volte abbiamo fatto anche degli incontri in prefettura, noi veniamo scavalcati nelle decisioni. Ci vengono imposte alcune decisioni da parte della prefettura per cui noi non possiamo altro che prendere atto. Noi chiediamo alla prefettura, che ovviamente è l'ente di governo sui nostri territori, e lo Stato sul nostro territorio, che vengano rispettati questi accordi nazionali fra l'Angi e il Ministero degli Interni. A Salerno un buon esempio di integrazione dei migranti come lo Sprar, gestito dall'Arci per conto del Comune. Attivo da dieci anni è un luogo dove gli stranieri imparano l'italiano e vengono avviati nel mondo del lavoro. La sfida più difficile non è quella di salvarli dalla povertà e dalla guerra, quanto quella di integrarli per farli diventare davvero dei cittadini a tutti gli effetti. Si parla dei migranti e Salerno, che in questi anni ha accolto numerosi sbarchi, può vantare diversi esempi virtuosi. Ci sono centri di accoglienza gestiti da comuni e associazioni di volontariato come quello della Caritas di Atena Lucana o la sede di Capaccio Pestum. A Salerno, dove i servizi sociali già accolgono i minori non accompagnati, c'è anche lo Sprar gestito dall'Arci. Una struttura che quest'anno compie dieci anni e che si è sempre distinta per il grande sforzo nel fornire agli stranieri non solo un posto dove stare, ma anche un luogo dove studiare la lingua italiana e formarsi per entrare nel mondo del lavoro. Con rigature economiche importanti anche per i territori, come sottolinea il presidente Francesco Arcidiacono. Ospita 25 persone, tra uomini e donne, e ha ospitato sin qui circa 200 persone dal momento della sua attivazione. Lo Sprar è un modello, è un sistema di accoglienza integrata, quindi non solo mera accoglienza, ma anche servizi. L'apprendimento della lingua innanzitutto, i percorsi di orientamento al lavoro, l'accompagnamento nell'iter giuridico, l'assistenza socio-sanitaria quando serve. E voglio ricordare che questa è un'occasione per sviluppare economia, far lavorare dei giovani. Ci sono dei paesi che sono rinati grazie al fatto che c'è lì un progetto che accoglie gli immigrati e dove i giovani del posto, attraverso le organizzazioni del territorio, giovani laureati, giovani che hanno titoli nell'ambito sociale, hanno potuto mettersi all'opera e lavorare. Adesso parliamo della nuova sfida della Regione sui trasporti e sulla mobilità. Odotto Channel parla Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti della Campania, ospite questa sera alle 22.30 del programma L'Intervista. Così la campagna uscirà dall'emergenza, ha spiegato Cascone, che ha parlato del caso AIR, del futuro del porto di Salerno e dei collegamenti tra Benevento e Napoli. Adesso sentiamo un'anteprima dell'intervista. Possiamo provare a tracciare un primo bilancio dopo un anno e mezzo di lavoro? Che cosa è cambiato rispetto al passato? Ma come lei dice, noi abbiamo trovato a una situazione veramente drammatica. drammatica innanzitutto perché le aziende di trasporto in generale, il sistema complessivo di trasporti era in crisi sotto a tutti i punti di vista, era in crisi anche nel rapporto con la Regione Campania. La programmazione era inesistente, o comunque dove c'era, era attesa ai tagli, quindi alla riduzione. E tutto questo ovviamente non consentiva neanche alle imprese di fare una programmazione accettata, accettabile, cercare di migliorare i servizi ai cittadini. Voglio però chiarire una riflessione sull'AIR. Non c'è dubbio, una delle migliori aziende della Regione Campania significa che porta il bilancio in pareggio o in leggero utile. Ma non significa che è un'azienda che può competere sul mercato adesso che ci saranno le gare. L'imbuto che va da San Severino a Fratte innanzitutto è l'imbuto più pericoloso d'Italia. Tutto questo tratto, quello che va da Salerno fino ad Avellino città, ovviamente va adeguato e potenziato. Lei ha incontrato il sindaco Mastella e altri sindaci della provincia di Benevento. Qual è la prospettiva per questo territorio? Già a febbraio avremo questo famoso primo treno che è bloccato da mesi per l'autorizzazione che dovranno darci le ferrovie per poter viaggiare. Se i numeri sono pochi, è sufficiente un mezzo su ruota, un pullman, perché è chiaro che dobbiamo portare 20 persone, mettere in piedi un treno a dei costi successivi. Se invece vi registreremo anche con l'aiuto del Comune di Benevento e delle comunità locali, un grande interesse, una grande attenzione su questi collegamenti festivi, saremo ben disponibili di riattivare anche la linea ferrata con collegamenti più sostenuti. E adesso parliamo del caso Listopoli a Napoli. Il principale indagato, il consigliere Madonna, accusa è stato Mola, compagno della deputata PD Valeria Valente, a darmi il verbale con i nomi da autenticare. Ieri l'interrogatorio del consigliere. Sentiamo, Rossella Strianese. Il giallo dei candidati a loro insaputa si infittisce ed ora il principale indagato, il consigliere PD Salvatore Madonna, accusa il compagno di Valeria Valente, Gennaro Mola. Sarebbe stato lui a consegnargli il verbale con i 13 nomi della lista. Madonna non ci sta a fare da caprio espiatorio di questa vicenda e al PM Stefania Buda, che ieri lo ha interrogato per più di tre ore, il consigliere autosospeso del PD, uno dei più votati della passata tornata elettorale a Napoli, ha ammesso di aver certificato le firme a poste sul verbale, senza che fossero presenti diretti interessati, sostenendo di averlo fatto per superficialità e in una situazione ambientale di estrema confusione che si viveva nel comitato elettorale della Valente in Piazza Bovio la sera del 6 maggio, a poche ore dalla scadenza dei termini per la presentazione delle liste. Nel verbale incriminato compaiono 13 nomi, 4 candidati consapevoli, 9 inconsapevoli. Madonna, assistito dall'avvocato Carlo Di Casola, ha dichiarato ai giudici che si limitò soltanto ad apporre la propria firma, ma ha anche aggiunto che quella sera fu convinto ad autenticare quelle firme da alcuni compagni di partito, i quali lo avrebbero tranquillizzato dicendogli che anche altri consiglieri stavano facendo la stessa operazione. A consegnargli il verbale con i 13 nomi sarebbe stato Gennaro Mola, ex assessore del PD, compagno della Valente. L'operazione sarebbe avvenuta in una stanza appartata. Immediata la replica. Tutto falso, ha dichiarato l'ex assessore del Comune di Napoli, Mola, che fin dall'inizio è stato tirato dentro questa brutta storia dall'avvocato Biondi, una delle candidate a sua insaputa della lista. Mola ora è stato convocato a riferire agli inquirenti in qualità di persona informata sui fatti. Ai giudici riferirò tutto quello che so di questa incresciosa vicenda, ha detto l'ex assessore. E adesso andiamo ad Avellino, parliamo del caso dell'aggressione a Luca Toni. Sono pronte otto denunce per i tifosi accusati di violenza privata. Il gruppo è stato individuato dalla Digos di Avellino. Ci racconta tutto Angelo Giuliani. Sono pronte le denunce per otto persone individuate dalla Digos di Avellino come responsabili dell'aggressione ai dirigenti dell'Ellas Verona avvenuta sabato prima della partita al Partenio. Danneggiamento e violenza privata le accuse a cui si aggiungeranno i provvedimenti di Daspo, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, ma niente arresto perché non c'è la flagranza di reato. Ieri il capo della Digos Avellinese, Francesco Cutolo, è tornato sul luogo dell'aggressione. La rotonda tra Via Narumma e Via De Gasperi ha effettuato ulteriori indagini, raccolto altre testimonianze. Intanto in città gli avellinesi condannano il gesto ma dicono quella non è la nostra tifoseria. Arrivare all'aggressione non è da persone educate, non è da persone civili. Ci sono tanti incidenti ancora peggiori di questi e non se ne parla così tanto come questo fatto di Toni, ma è solo un fatto, diciamolo, alla Barbara Russo. Questa macchina è già lesionata, non è lesionata, qua stiamo agendo per bene. Anzi, noi il comportamento di quelli, i signori là sopra, le parole erano terremotate, terremotate, basta, basta. Abbiamo fatto proprio una brutta figura della città. Quelli non erano tifosi dell'Avellino, erano solo dei vandali che hanno fatto cose che non dovevano fare. Gente così non merita di essere chiamata Ultras, gli Ultras sono tutta un'altra maniera. E il sindaco Foti oggi nel ribadire le scusi alla dirigenza del Verona non fa altrettanto nei confronti del sindaco della città scaligera Tosi. Il sindaco di Verona, scusi, non ne deve avere da me, anche perché qualche volta, anzi molto spesso parla a sproposito. Adesso andiamo a San Giuseppe Vesuviano, dopo oltre un secolo al via, il restauro della cupola del santuario, il Vescovo Marino, benedice il cantiere. Dopo mesi di restauro, torna all'antico splendore la cupola del santuario di San Giuseppe Vesuviano e la sua croce in rame, che posta a 50 metri di altezza, rappresenta il punto più alto dell'intera cittadina. A benedire la posa della croce rinnovata, Sua Eccellenza Francesco Marino, nuovo Vescovo della Diocesi di Nola. È una bella giornata, naturalmente, perché se c'è stata attesa di tanti anni, oggi c'è un gombimento. E la croce che viene innalzata, sta a significare che in Gesù Cristo abbiamo la nostra salvezza e che il Signore continua a orientare la nostra vita. Era oltre 100 anni, dal 1908 che questa cupola non veniva restaurata in modo straordinario, come viene fatto in questi giorni, e soprattutto la croce è stata tirata giù da manovalanza esperta e è stata restaurata nelle parti che, purtroppo, con il tempo, sono andate un po' deteriorandosi. L'evento ha coinvolto l'intera cittadina vesuviana, presenti le scolaresche. Il Sindaco Vincenzo Catabano ha sottolineato la coesione della sua comunità. Questo splendido e incantevole santuario è il nostro orgoglio, è l'orgoglio dell'intera città e quindi rappresenta anche un momento di unione, un momento va ben oltre quello che è appunto il concetto di religiosità, fine a se stesso. È un momento, è un punto di riferimento. Intanto ad Avellino, nel giorno di San Modestino, il Sindaco Paolo Foti affronta i temi dell'attualità, in particolare sull'ampliamento dello stir di Piano Dardini, annuncia il ricorso al TAR, ma spera che il governatore De Luca fermi il progetto. Dogana, rifiuti migranti, nel giorno del Santo Patrono di Avellino, San Modestino, il Sindaco Foti, torna sugli argomenti caldi in questi giorni in città. Aver sospeso la vendita all'asta della Dogana è una vittoria della comunità e anche una piccola rivincita per l'amministrazione. Postumamente poi si ha ragione, ci sono state tante proteste, tante manifestazioni, però bisogna guardare ai fatti e i fatti danno ragione all'amministrazione e al Sindaco che ha proceduto con la giusta attività amministrativa. Sull'ampliamento dello stir di Piano Dardini, Foti conferma che ricorrerà al TAR per scongiurarlo, ma si augura che la vicenda possa avere prima ancora una soluzione politica. Il ricorso al TAR sarà fatto perché devo dare esecuzione ad una mozione del Consiglio Comunale che è stata assunta all'unanimità. Mi auguro che non si debba arrivare nelle aule di giustizia e che il Governo regionale capisca che il territorio ha espresso una posizione ben chiara perché obiettivamente la zona di Piano Dardini sul piano ambientale ha delle grandi difficoltà. E sui migranti il Sindaco ribadisce non abbiamo le strutture per accoglierli in massa, ma proveremo a fare comunque la nostra parte. In Consiglio Comunale è stata licenziata una mozione dell'unanimità. Noi parteciperemo come Comune di Avellino al bando sugli sprayer, che è un modello sostenibile per gli enti locali e quindi ci muoveremo in quella direzione. Casto erotico, ecco il San Valentino a Pompei e sentiamo le promesse e auguri degli innamorati. Un palloncino rosso a forma di cuore tra le mani di una ragazza, le labbra in bronzo delle gigantesche statue neoclassiche e la venere in conchiglia e fra tutti svetta il bacio dei casti amanti. A San Valentino l'amore a Pompei è stato celebrato negli scavi attraverso lo sguardo moderno di giovani Igers, la nuova categoria di influencer di Instagram che diffonde la conoscenza dei luoghi attraverso le immagini. Pompei è capitale dell'amore a San Valentino, 15 appassionati di fotografia che hanno visitato il sito archeologico in uno speciale percorso dedicato all'amore. Intanto nel centro di Napoli sono sfilati tantissimi innamorati, abbracciati, stretti in un bacio e complici in un giorno di festa davvero speciale. Sentiamo i loro auguri. Questo è il nostro primo San Valentino, il primo di mille insomma che potremo passare insieme. Tanto amore, condivido. Mi auguro che comunque questo amore tra me e lei non finirà mai. Perché la vita la posso regalare il meglio è di andare avanti in qualsiasi circostanza, insieme, sempre. 43 anni, quindi siamo una coppia anomala. E in questo giorno di festa degli innamorati, Benevento è stata davvero romantica, flash mob con bacio da record nel giorno degli innamorati. Ci racconta tutto Maria Teresa De Lucia. Benevento si riscopre romantica per San Valentino. La città delle streghe festeggia l'amore con un bacio collettivo nel giorno della festa degli innamorati. Un flash mob di San Valentino nella centralissima Piazza Roma con un maxi bacio collettivo da record. Stasera è una forma di corrisponzione di amorosi sensi, non soltanto politici evidentemente, ma anche dal punto di vista umano, di un'umanità recuperata, di un rapporto che vive di un'intensità molto forte. Il mio desiderio, rispetto alla propria sposa, in questo caso, alla propria fidanzata, la città di Benevento, di dargli il meglio di se stesso. Perché credo che c'è una bella differenza. C'è uno scrittore cattolico, Maritè, che ha detto che la differenza tra l'amore e l'amicizia è l'amore e il dono di ciò che si è. Nel senso, anche se partecipa all'altre due difficoltà, l'amicizia e il dono di ciò che si ha, dà il meglio di quello che hai. Mentre invece, questo essere legati, diciamo, nella buona, cattiva sorte, come si dice normalmente, nel gergo della vulgata popolare, vi pare che sia una cosa molto, molto importante. e stasera è un modo di vivere attraverso il cioccolato, il bacio, una dimensione che è un po' diversa che qua non si era mai verificata e qui intendiamo di attestare Benevento su una lunghezza d'onda che è un po' al di là della cinta muraria tipica nostra. La polizia invece a Salerno ha deciso di dare nel giorno di San Valentino il via una campagna informativa Questo non è amore. Sentiamo. Nel giorno della festa degli innamorati, la polizia di Stato ha scelto di dare il suo sostegno alle donne vittime di violenza con la campagna informativa denominata Questo non è amore. A Salerno, come in tutta Italia, è stato installato un gazebo in piazza Portanova dove oltre al materiale informativo erano presenti operatori specializzati tra cui medici e psicologi per lo più donne personale della polizia e rappresentanti di centri antiviolenza. All'evento ha partecipato anche il questore di Salerno Pasquale Enrico che ha sottolineato l'importanza della manifestazione. Il nostro Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha voluto in questa giornata dedicare il tema Questo amore non è violenza soprattutto alle donne che sono esposte ad atti di violenza e di vestazioni nell'ambito familiare e non. La giornata è oggi in tutte le piazze italiane ci sono gli stand della Polizia di Stato ci sono i gazebo della Polizia di Stato e qual è la funzione di questa nostra presenza? È quella anche di sollecitare le donne a denunciare. Io ho sempre anche in appositi convegni ho sempre detto che bisogna avere il coraggio della denuncia. I tempi sono maturi per poter arrivare a questo coraggio della denuncia anche perché il nostro ordinamento penale il nostro ordinamento processuale penale ha messo in campo una serie di norme che aiutano e sostengono l'azione anche dalle forze di polizia in questa specifica tematica. Benevento e il Sagno sono un set di un lungometraggio che racconta il catechismo della Chiesa Cattolica a un film fortemente voluto da Papa Francesco. L'arco di Traiano la Chiesa di Santa Sofia il teatro romano i monumenti più belli di Benevento sono lo scenario di un lungometraggio che racconta il catechismo della Chiesa Cattolica un'opera fortemente voluta da Papa Francesco alla quale si sta lavorando da tre anni con una maxiproduzione. Protagonisti del video anche alcuni attrici sannite e ballerini della compagnia Balletto di Benevento diretta da Carmen Castiello. Questo film è voluto da Papa Francesco praticamente per diciamo diffondere il linguaggio del catechismo cattolico diciamo lui lo vuole fribile diciamo da tutti e attraverso tante forme di arte. A noi è capitato tra cinque città italiane è stata scelta Benevento e a noi è stato chiesto di rappresentare gli argomenti del catechismo cattolico. Io ne ho scelto e ne ho scelti due questo delle beatitudini attraverso la porta dell'arco traiano che rappresentava la porta di ingresso alla città e per me è l'ingresso in questo mondo delle beatitudini a Piazza Santa Sofia gireremo quello sulla penitenza invece al Tearo Romano rappresenteremo un sabba il nostro sabba della nostra estrega belle che rappresenta il male praticamente. Abbiamo scelto Benevento per la sua bellezza e il suo legame con la Chiesa racconta il regista Kossovaro Guion Condrecai la troupe ha girato anche in altri scenari del Sannio e proseguirà nelle sue riprese per poi spostarsi nella terra dei fuochi Il video Catechismo della Chiesa Cattolica è un'opera cinematografica multimediale e multilingue di oltre 2500 minuti Da parte mia è tutto buona serata con Otto Channel